In questo video esercizio svilupperemo insieme un piccolo progettino che si pone come obiettivo quello di dare la possibilità all'utente finale di ottenere delle statistiche riguardo alcuni tipi di file di testo Vediamolo un attimo in funzione Si sceglie prima con il selettore standard di Windows un file Notare come qui io abbia impostato anche le estensioni riconosciute e si ottengono queste statistiche Nulla di che ma vedrete che alcune cosette non sono poi così banali da ottenere Il linguaggio che verrà utilizzato è il C Sharp e l'ambiente target il .net Vi potrà sembrare un po' strano perché ancora non è stata pubblicata nessuna playlist sull'utilizzo di Visual Studio e il C Sharp Il motivo è che ho già pronte sì delle video lezioni per un corso direi decisamente completo Ma sono state preparate per il nono bussoleto Cioè però non più recentissimo ambiente Visual Studio 2005 Quindi voglio prendermi un po' di tempo per vedere quello che posso per così dire salvare di quelle lezioni E cercare di aggiornarle alla più recente versione 2010 Però visto che lì in giro per il mondo immagino che tanti di voi sappiano già usare almeno a un livello di base il Visual Studio con C Sharp Beh, questo è un discreto video esercizio E personalmente l'occasione per il video esercizio è il trattare questo argomento in questo periodo a scuola E create quindi un nuovo progetto Chiamatelo pure come volete E aggiungete sulla form un'etichetta con questa scritta Un bottone che io ho chiamato Scegli BTN Vedo di stringere un pochino In modo Ok Di riuscire a vedere Con agilità anche la parte delle proprietà Come vi dicevo, ecco qua il name Scegli BTN Poi aggiungete questo componente Che è un rich test box C'è un test box per testi ricchi Quindi avremo la possibilità di aggiungere A differenza di una semplice casella di testo Anche stili del testo Come il grassetto, il sottolineato e così via Lo trovate qui nel gruppo degli strumenti più comuni Che obiettivi mi sono posto? Li ho ricordati qua Come commento all'inizio del codice Dovrà essere possibile scegliere Con questo bottone Un file usando il Selettore Il dialog box Selettore di file standard per Windows E non solo Il programma sarà capace di riconoscere in automatico Se il file scelto è di quelli adatti per le statistiche Che poi sarà in grado di fare Li riconoscerà questi file Dall'estensione Ad esempio Un file di testo, txt Un foglio di stile, css Una pagina html Html Potevo aggiungere anche .aspas, pix .php .xml E così via E quanti e quali? Beh, direi che Per flessibilità L'elenco di queste estensioni Il programma Se le ritrova belle pronte In un file chiamato Estensioni valide .xt Che quindi dovrà essere letto in automatico Alla partenza del programma E queste estensioni Verranno accumulate Visto che non sappiamo quante sono E non sapremo che dimensione dare al vettore In un nuovo oggetto Nuovo perché ancora non ho avuto modo di seguire le altre mie lezioni Che di fatto è una lista dinamica di variabili di qualsiasi tipo Nello specifico la faremo diventare una lista di stringhe Che partirà vuota e potrà crescere virtualmente all'infinito L'oggetto lista di stringhe ci metterà poi anche a disposizione molti metodi Per lavorare con queste voci in elenco Ad esempio sapere se una certa voce è presente nell'elenco Quindi quando avremo letto Fatto scegliere Scusate il nome del file E avremo capito come estrarre l'estensione Del nome del file Faremo una ricerca in questa lista Se lo troveremo Allora continueremo con le statistiche Altrimenti ci bloccheremo In particolare se il file sarà riconosciuto Come valido Almeno in partenza Mi sono inventato Mi sono venute in mente queste caratteristiche Confermare nel rich test box Il numero di byte La dimensione in byte del file Quante righe ha Quanti caratteri E magari quante parole contiene E poi solo la fantasia è un limite Quindi alla fine del video esercizio Avremo imparato un po' queste cose Aprire il selettore Di file In una cartella specifica Perché farò in modo Che il selettore Si apra automaticamente Nella cartella stessa In cui si trova l'eseguibile Fare un controllo di esistenza Sul file E se la risposta è positiva Leggere i dati Questo lo faremo per leggere L'elenco delle estensioni valide Ad esempio Da subito Poi usare la classe Appunto list E il suo metodo di ricerca E poi Quello che ho appena detto Il rich test box E come chicca Scoprire che esiste Una classe di servizio Di punto net Comodissima File Che svolge una serie di servizi Che ci semplificheranno Incredibilmente il lavoro Quando si tratta Di lavorarci ai fianchi Un file Dimenticavo Anche perché non si vede Nel quadro di registrazione Poverino Ovviamente ci serve Anche un open file Dialogue box Che trovate Un po' più sotto Nel Qua non si vede Scendete 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 Sulla form E lui Bravo bravino Si metterà in questa zona Perché Non è da subito visibile Dovremo comandare La sua apertura Al click Su questo bottone Scegli Poiché si vuole Far apparire Il rich test box Solo dopo aver scelto Un file valido In partenza Impostate La sua proprietà Visible A false Ok Iniziamo La prima cosa da fare Alla partenza Dell'applicazione Quindi potrebbe essere Il metodo Load Della form E Andare Ad impostare La cartella In cui Si Prepara Il programma Quando faccio clic Su scegli Nella cartella Dove è presente Da dove è partito L'eseguibile stesso Siccome sto eseguendo Il programma In modalità debug Con il tasto F5 O il bottone Triangolino verde Come sicuramente Saprete E' che il motivo Per cui mi trovo qua Proprio In questa posizione E' qua che poi Dovrò mettere Il file Con l'elenco Delle estensioni Riconosciute D'accordo Il prossimo passo Normalmente Il punto Di apertura Come cartella Forse La cartella Documenti Se non ricordo male Noi vogliamo invece Forzare Questa posizione E' Decisamente Semplice Si diceva Che lo vogliamo fare Allload Quindi Attivate La scrittura Del codice Per l'evento Load Della form Con un doppio clic Qua Una zona libera Da altri componenti Della form Oppure Facendo clic Prima qua Sul bottone Degli eventi A cercare Sempre L'evento Load Doppio clic Impostiamo quindi La directory Di partenza Intanto Il nome Del Dialog box Non l'ho cambiato Perché Rimarrà l'unico Probabilmente Open File Dialog 1 La proprietà In cui Andare a mettere La stringa Che corrisponde Alla cartella Desiderata Di partenza E' questa Initial Directory Qua Sfruttiamo La disponibilità Di una Comodissima Classe Di servizio Environment Che ci da Tutta una serie Di informazioni Riguardo L'applicazione Che è in funzione Tra cui Anche La Current Directory Che inizialmente Guarda caso E' proprio Quella Da cui E' stata Fatta Partire Il programma Stesso E' una Stringa Con un trucchetto Mettiamo Una istruzione A vuoto Qua Int I Uguale A 1 Che non Fa nulla Giusto Per avere Una posizione Su cui mettere Il breakpoint Al di là Che forse Potevo Mettere Addirittura Questi Sono sempre Più ingenuo Di quello Che visual studio Così Breakpoint Poi facciamo partire Con F5 O col bottone Di debug E vedrete Che il programma Si fermerà Subito qui Dandoci la possibilità Di curiosare Che cosa vale Current Directory E lo stesso Indirizzo Che avete visto Prima Beh il mio disco Il G Vedete le barrette Raddoppiate Perché altrimenti Verrebbero interpretate Come un carattere Escape Come lo slash n Per andare a capo Lo follow in automatico Quindi questa stringa È quella che viene copiata Nella cartella Di partenza Del dialog box E se proseguo Quando poi faccio click Come avete già visto Tra l'altro Parto proprio In questa posizione Facile E pulito Poi mi sposto Sempre in questa cartella E vado a creare Un file di testo Che devo chiamare Estensioni valide Ovviamente il nome L'avreste potuto scegliere Come volete XT Lo apro E ci vado a scrivere dentro Un po' di estensioni Una estensione per riga Facilita di molto le cose Perché poi Il ciclo che Imposteremo per leggere Il contenuto di questo file Ha proprio nella sua natura Il leggere una riga alla volta Quindi far corrispondere Ogni riga letta Ad un'estensione Facilita le cose Va bene Lo salvo Ora andiamo a dichiarare L'oggetto di classe Lista di string Dove? Beh Direi che È abbastanza sensato Metterlo come variabile Di classe Della form In modo che sia poi A disposizione Di tutti i metodi Della form Quindi Qua Ad esempio Privato Quindi non mettiamo Davanti nulla In particolare Non metteremo public È un list Che è una classe Predefinita Le parentesi angolari Ti fanno capire Subito Che è un po' speciale Perché Tra esse Dovremmo specificare Lista Di che Potremmo mettere Qualsiasi oggetto Anche uno fatto da noi È Una classe Che rappresenta Dei clienti Lista di clienti Non è un problema Qualsiasi cosa È Parametricamente Realizzata Per cui Uno dei casi Più semplici È una lista Di string Piuttosto che di double O di altro List string Che è quindi Il tipo Dell'oggetto Che vogliamo creare Tipo della variabile Adesso quindi ci va Il nome Della nostra lista Di stringhe Chiamiamola Lista Estensioni Valide Intanto poi ci aiuta lui Ad autocompletare i nomi Possiamo essere Molto chiari Senza pagare un grosso pegno Ugale Secondo la Stranota Ormai Sintassi Una nuova Quindi dobbiamo creare Dinamicamente L'oggetto Una nuova Lista di stringhe Stiamo di fatto Chiamando un costruttore Quindi è un metodo Cioè una funzione E ci vogliono Le sue brave parentesi Anche se poi Non indichiamo Nessun parametro Ok È uno di quei casi In cui In fase di Dichiarazione Possiamo anche Contestualmente Inizializzare La variabile Definirla Quindi In altri casi In altri casi E comunque avremmo potuto Seguire anche qui Quella strada Potevamo limitarci Alla dichiarazione Della variabile Fermarci qui Magari mettendo Uguale null E Qua Nel costruttore Della maschera Della finestra Aggiungere Liste Estensioni Valide Uguale New Eccetera Dobbiamo leggere Quelle file Estensioni Valide .txt E D'ogni riga Caricarla Come elemento Di questa lista Per averla A disposizione Per i successivi Controlli Fermi tutti Dobbiamo qui Aggiungere Una classe Che è quella Che ci permette Di usare I file System.io Input Output Ora Siamo armati E pericolosi Stiamo quindi Per caricare L'elenco Delle estensioni Considerate Valide Per l'elaborazione Per le statistiche Nella lista Per leggere Un file Di testo Dobbiamo istanziare Un oggetto Della classe Stream Reader Stream Vuol dire Flusso Il file Ho più volte Ricordato Che non è Ne più Ne meno Considerato Come un flusso Di byte Che proviene Da un supporto Di memorizzazione Di massa Io sono abituato A chiamarlo Leggi Quando mi serve Per leggere Un file Quindi Leggi Potremmo Quindi seguire Questa Mia personale Nomenclatura Uguale Un nuovo Stream Stream Reader Nel costruttore Qui Potete immaginare Che può avere un senso Dire qual è lo stream L'oggetto stream Da leggere O il file Indicando La stringa Del suo percorso E noi sappiamo Che questo file L'abbiamo fissato Noi Cabalato Nel codice Magari Non è Eccessivamente Flessibile Però è Perfettamente Accettabile Visto che è Sempre uno Solo Questo file Con la lista Lo andremo a cercare Nella cartella Stessa Dell'eseguibile Quindi di nuovo Ci faremo aiutare Da Environment Current Directory Così E saremmo Arrivati Al nome Della cartella Quindi dobbiamo Aggiungere Usando L'operatore Di concatenazione Il nome Del file Preceduto Però Dal separatore Tra Nome Delle cartelle E altri Nomi di cartelle O il nome Del file Cioè La famosa Barretta Qua possiamo Decidere Di usare Quella Naturale Per Windows Che è Il Backslash Quindi Sarebbe Questa Però Con un errore Che tra poco Vi spiego Barretta Estensioni Valide Era il nome Del file Di testo Che abbiamo Preparato Ixt Così Il problema In questa piccola Sottolineatura È Che Nelle stringhe C++ C sharp Il Backslash Ha Un potere Speciale Ha una funzione Speciale Cioè Quella Di introdurre Nella stringa Le cosiddette Sequenti Di escape Come Lo slash Con la n Che sta per New line Che andrebbe a capo A capo Quindi dice Ah Mi sta indicando Uno slash E poi la e Quindi tenta Senza riuscirci Perché non esiste Di riconoscere Una sequenza Di escape Speciale Slash E E Abbiamo due modi Per far capire Che quel Backslash Non deve essere Interpretato Come speciale Ma come il Backslash Stesso Il primo è Raddoppiarlo Quindi Usare Questa sequenza Di escape Stessa Speciale Per il Backslash Stesso Quindi La coppia Dei Backslash Viene considerata Proprio Il carattere Backslash Ma quando Ho Molti Backslash Da introdurre Nel percorso Può diventare Scomodo E appesantire La lettura In C Sharp Abbiamo a disposizione Un trucchetto Le cosiddette Stringhe Verba Team Che prevedono Di far Di far precedere La stringa Dal carattere Chiocciola Carattere Chiocciola Per così dire Disabilita La funzione Speciale Del Backslash I Backslash Vengono Considerati Normali Caratteri Singoli Come tutti Gli altri Una terza Possibilità E Non usare Il Backslash Si può Usare Il Forwa Slash Alla Unix Che non è male Così uno si abitua A indicare I percorsi In un modo Che sarà riconosciuto Già in automatico Sia dall'ambiente Windows Che Linux Non dimentichiamo Che Esiste anche Il corrispondente Del visual C Sharp Progetto famoso Progetto mono Anche per Linux E anche per iMac Come Prova del 9 Della venuta Apertura Corretta Del file Potremmo chiedere La visualizzazione In un Message box Della prima riga Di quel file Che Può essere ottenuta Utilizzando Il metodo Read Line Dell'oggetto StreamReader Quindi questo metodo Applicato Allo StreamReader Leggi Restituisce Se c'è Se c'è La stringa Corrispondente Alla prima riga Di quel file Chiaro che poi Dovremmo Sfruttare Questo stesso metodo In un ciclo Che legge Le righe Finchè ce ne sono Faccio partire L'applicazione Ed effettivamente La prima riga Del mio file Conteneva TXT Tutto sta procedendo Per il meglio Questo è il formato Tipico Del ciclo Che deve leggere Tutte le righe Di un file Di testo Letteralmente Significa Finché ci sono Righe E lo si capisce Consultando Dell'oggetto StreamReader La sua proprietà End Off Stream Fine Dello stream Fine Del file Perciò Negarlo Vuol dire Finchè Non Si raggiunge La fine Del file Mentre È falso Che End Off Stream Quindi finchè Ci sono righe Da leggere Siamo quindi Sicuri Dentro il corpo Del while Che una chiamata Al metodo Read Line Procurerà Una riga valida Questa riga Noi la andremo ad aggiungere Alla lista Delle stringhe Lista Estensioni valide Stiamo assumendo Che il contenuto Di una riga Sia corretto Cioè che sia Un'estensione valida È facilissimo Aggiungere un elemento Alla nostra lista Basta utilizzare Il suo metodo Add Aggiungi Siccome è una lista Di stringhe L'help Nel Riquadro Ci suggerisce Ora di indicare Appunto Una stringa Come item Cioè come elemento Da aggiungere All'elenco E quello che si fa È Semplicemente invocare Il metodo Readline Sull'oggetto stream Istanziato prima Potremmo anche Prima memorizzare Una stringa In una stringa Il leggi Readline Puoi aggiungere La stringa Insomma Non c'è motivo Per cui Facciamo tutto Con una sola istruzione Così Simmetricamente All'apertura All'istanziazione Dell'oggetto Leggi Terminate le operazioni Con uno stream È Importante Ricordarsi Di chiudere Il close Conferma Al sistema operativo Che può Liberare Le risorse Che stava tenendo Impegnate In termini Di RAM Per i buffer Per gestire La lettura Variabili Con cui Teneva sotto controllo Quello che Tracciava Quello che stava Succedendo Con quel file E altro Che comunque Comportano Uno spreco Sia di RAM Ma anche di risorse Come cicli macchina Quindi un po' di potenza Della CPU Impegnati inutilmente In controlli Che ora Non avrebbero più Nessun significato Visto che abbiamo acquisito Tutto l'elenco Delle estensioni Possiamo Usare il debugger Per andare A controllare Dopo ciclo while Com'è che appare Il contenuto Di questa lista Quindi metto Un breakpoint Qui Con un click Faccio partire Programma E siamo già qui Perché Tutto viene in automatico Alla partenza Allora Vado col mouse Sull'oggetto Lista Mi fa subito vedere Qual è Il numero di elementi In elenco Quel count È il numero di elementi Che sono stati aggiunti A questa lista Posso andare In dettaglio Mi appare come un vettore Anzi poi La grossa comodità È che potrò anche Usarlo come un vettore Indicando tra parentesi quadre La posizione Dell'elemento Che mi interessa Ma a differenza Di un vettore Io potrò aggiungere Io potrò aggiungere In un qualsiasi momento Anche successivo Altre elementi O toglierli E la stringa E la lista Di stringhe A fisarmonica Si espanderà E si contrarrà Usando solo La memoria Strettamente necessaria Né più né meno In 0 Abbiamo la prima riga Vedete Txtp Ha letto Effettivamente Correttamente Una dopo l'altra Le righe E quindi Le estensioni Che ha trovato Nel file Che è stato indicato Bene Voi potete usare Anche F10 Per andare avanti Di un colpo Con l'esecuzione Io no Perché F10 È proprio uno dei tasti Che serve Al programma Che sto usando Per registrare La lezione E quindi Farò riferimento Al corrispondente Bottone Esegui istruzione Anzi Vai Libero Continua E siamo ritornati qui Sembra che non sia cambiato nulla Ma ora la form Ora il mio codice Ha elenco delle estensioni Valide Però Ci stiamo fidando Del fatto Che sicuramente Nella posizione In cui lo sto cercando Esista questo file E che il nome Sia proprio questo Cosa succede Se O per un errore Di programmazione Sbaglio a scrivere Il file Mi dimentico Una lettera Oppure se qualcuno Esternamente Mi cambia Il nome di quel file Direi che abbiamo Un paio di Possibilità Per gestire L'anomalia O controlliamo Prima utilizzando La classe File Se L'estensione Valide .txt Esiste E nel caso Ci si ferma Oppure Sfruttare Il meccanismo Del try Catch Intercettando L'eccezione D'errore Che deriverebbe Dal tentativo Di utilizzo Di un file Che non esiste Cominciamo Con Il controllo A priori Quindi in modo Deterministico Sotto il nostro Controllo Usiamo Come Come stavo Anticipando Prima Una Comoda Classe Predefinita File Che mette a disposizione Alcuni metodi Molto utili E anche Alcune proprietà Molto utili Ora ci serve Il metodo Exist Che restituisce True Se un certo file Di cui forniremmo Chiaramente Tra parentesi Il path Esiste Veramente Quindi mi ricopio Il path Che copio E incollo Qui Quindi se Esiste Allora si procede Altrimenti no Potremmo mettere Se no Se non esiste Mettiamo il messaggio D'errore E poi Si abbandona Il metodo Con un Return Praticamente Con un nulla Di fatto Quindi Così Manca Una parentesi Che è quella Dell'if Quindi se Non esiste Il tal file Errore E poi Return Vediamolo Un po' In azione Prima Lasciando Tutto Come deve essere Il fatto stesso Che sia arrivato Qui A poter vedere Le estensioni Impostate Nella tipologia Di file Da aprire Vuol dire Che ha trovato Il file Ok In effetti Poi non mi ha dato Il messaggio D'errore Adesso Tolgo Dopo aver Bloccato L'esecuzione Sono tornato A livello Di Design Dove mi è scappato Un click Ok Cancello La I Ci riprovo Ora mi aspetto E invece No Perché mi sono Mi sarei aspettato Di vedere Il messaggio D'errore C'è qualcosa Che Ah sì Certo Pardon Ho tolto La I da qua E non da qua Dove c'è il controllo Rimedio Subito Metto qua la I Così poi Non mi dimentico Una seconda volta Tolgo da qui F5 Ecco qui Non appare neppure La form Cioè Adesso poi apparirà Dice ok però File delle estensioni Inesistente Va bene Adesso quindi Non avrebbe senso Procedere Ho anche una doppia conferma Qua non ho nessuna tipologia Preimpostata Perché non ha potuto leggere L'elenco delle estensioni E questo è un modo Per gestire Questa situazione Altro modo È sfruttare Il meccanismo standard Per la gestione Intercettazione E gestione Delle anomalie Delle anomalie Le cosiddette eccezioni In corrispondenza Di istruzioni critiche Che potrebbero causare Un'eccezione Incappare quindi In un problema Si incorpora il codice Lo si incapsula Nel costrutto Try Letteralmente Tenta Di eseguire Questa istruzione Try È l'unica Perché se supera questa I problemi poi Non ce ne sono Va a braccetto Il try Con la Sezione catch Notate anche la graffa Anche se c'è una sola istruzione Mi sembra Try catch Dico guarda Gli sto dicendo Se Durante l'esecuzione Della o delle istruzioni Che potrebbero essere Anche 20.000 Nel blocco try Succede qualcosa Di poco carino E tu rilevi Una situazione Anomala Io qui intercetto La casistica Se voglio La più generale Mettendo genericamente Come tipo Eh Pardon Exception 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 E vuol dire Qualsiasi Eccezione Divisione per zero Il disco rotto Il file non esiste Non lo so Qualsiasi cosa Possa capitare Di strano Io andrei a intercettarlo Ma Visto Che qui So Che l'unica cosa Che può andare storta È di non trovare Questo file O quantomeno Il caso più comune Posso anche essere Un pochino più preciso E dire Intercetto L'eccezione Di file Not found Che scatta appunto Quindi se nel frattempo Scattasse un errore Di comunicazione Con Il modem Piuttosto che Qualcos'altro Qui non verrebbe Catturato E non scatterebbe Questo cogit Codice E sarebbe anche giusto Perché il messaggio Che ora poi provvedo A dare Non avrebbe Molto Senso Con Un'altra Anomalia Quindi Se Scatta Il file not found Exception Ok allora Il messaggio Me lo posso copiare Da qui È lo stesso E anche in questo caso Poi il return Dunque per provarlo Ok qui mettiamo Valide E qua invece Sbagliamo Quindi questo Controllo passa E qui dovrebbe scattare Le eccezioni Mando No C'è un errore Eh sì Che è dovuto al fatto Che se dichiaro Lo stream reader Che mi serve per leggere Dentro il try Poi sotto Avevo già aggiunto Qualche istruzione E non mi vede più La variabile Quindi la dichiarazione La metto Prima del Beh mettiamola qua Visto che Prima del try Eh prima del try Sì Qua Uguale Nulla E qui diventa Semplicemente Un leggi O così Ora dovrebbe funzionare Eccolo qui È scattata L'eccezione Possiamo anche vedere Nel momento in cui capita Metto Per vedere che capitiamo Giusto qua Lancio Track Saltiamo direttamente qui Tento questo Durante questo tentativo Scatta l'eccezione Di file not found Vengo Catapultato qui Dove posso gestire Con tranquillità Quello che sta succedendo Naturalmente poi Dovremmo ottenere Soltanto uno Dei due blocchi E qui mi sta sottolineando Il verdino La variabile L'eccezione Perché l'ho dichiarata Ma poi non la utilizzo E non è che Sei lì per bellezza Proviamo ancora A sbagliare E a fermarci Nel blocco Dell'eccezione Andiamo a vedere Questo eccezione Contiene intanto Il messaggio D'errore standard Del punto net Se mi serve Basta fare un click Andare a vedere Quindi Siccome è un file Not found Abbiamo Delle informazioni Relative al file Ad esempio Quale file Si è tentato di aprire E quindi il suo file name D'accordo Il messaggio E scavando Scavando Potremmo trovare Anche Altre informazioni Adesso non c'è Naturalmente Tempo Di andare Così in dettaglio Ma qualche volta Poter scavare Nel perché E' stata sollevata Un'eccezione E' molto utile Poter accedere A tutto questo Po' po' di informazione Sull'errore Qua finisce La prima parte Del video esercizio Nella seconda parte Noterete Che il controllo Con l'if E il try Manca Perché me ne sono accorto Quando ormai avevo Completato Il tutto Tutta la lezione Che sto spezzando In due blocchi Perché altrimenti Diventa Eccessivo E poi voglio ancora Controllare con più calma La seconda parte E quindi Ho aggiunto In un secondo momento E Questo è il motivo Per cui Ripeto Questo codice Nella seconda parte Del video esercizio Non lo trovate Non lo trovate